Benvenuti in questo nuovissimo video, oggi siamo qui su Ghiacciai a far compagnia agli orsi polari leggiamo le solite informazioni riguardo all'isola Isola 14, locata a ovest, sei quasi alla conclusione della mappa, grazie mille Ovest di là, giusto? Wow, giusto Possiamo andare? Allora però, ah, non ho E' vero, qua non ci sono mica... potrebbe essere un problema, visto che qua non... cioè, finisco la frase intanto Visto che non ci sono mica gli alberi qua, non posso mica farmi le torce E potrebbe essere un leggero problema Ok Magari qua ci sono delle torce, no, enderpearl, vabbè, va bene No Vai via Aio Cerchiamo di usare bene queste torce Aio Ok, una torce Potrebbe andare bene qui Basta Che è morto Ah Aio Aio Meno d'oro Instant Basta Ma quanti ce ne sono qua di streghe Vai via, vai via, vai via Che mi clopisce? Oh, lascia stare il mio cane Grazie Mi servono delle torce Attento cane No E' esploso Lo volevo bene, era l'unico cane rimasto Va dai Ha combattuto da un bravo cane Dai Ok Vai, esplodi Mi serve, mi serve, mi serve, ok Bravo Grande, light vision Mi serve Non sono come le torce ma Dai Almeno ci vedo qualcosa Ok, lasciami piazzare questa torcia Vai via Cadi nel burrone No, niente Ora tocca a te Mamma mia che volo che hai fatto Anche tu No, c'è la cesta Di No, no C'era la cesta Enderpearl Grande Niente di così importante in fondo Night vision Oh, come si vede bene adesso con questa pozione di night vision Sì, però Ma C'è un pochino di gente per caso Ma sono io che me lo sto immaginando No, fammelo rompere Fammelo rompere Fammelo Me la fai rompere Ok Aia Questi scheletri Veramente Sono insopportabili No Devo rompere Soltanto Uno spawner Non c'è Anzi I golden apple Ta-da Ok Fammelo rompere Fammelo rompere Ottimo Anche questo Ottimo Ok Ora posso pensare a tutti voi Aio Ok Oh, mi fate Mi fate colpire qualcuno Grazie Ok, ce ne rimangono due Anche questo Ok Night vision Ok, qua c'è un'altra cesta Cos'è? Ah Là c'è un'altra cesta Sì Ok Questa qua Immagino che ce la dobbiamo tenere Per Portale del land Quindi Saliamo Ok Bene Vai Andiamo di qua Dov'è? Dove sei? No È finita Ok Ancora 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 Perfetto Ho questa Poi questa qui Poi basta Ce li dobbiamo saper gestire Zombie Che non mi interessano Creeper Con accanto Una bellissima cesta Per fortuna Che non esplosa Non ho niente Già alla fine Serio? Sono già Arrivati Alla fine È proprio Finita Perché eravamo lì prima Siamo passati Qua sotto Ok Credo di aver capito Beh possiamo andare In un'altra isola Ok Siamo giunti Qua In quest'altra isola Vediamo cosa Si nasconde Qui Oh mio dio Tantre Di buttarci Qua Ok Qua non c'è niente Vedo Una cesta Lì Mi butto sull'acqua Ok Enderpearl L'apis Li prendo Ma si dai Enderpearl L'apis Bottiglia Ok faccio parkour Poi ci arrivo No ci arrivo Oh torce Ottimo C'è un'altra Ma quanto sono scomode Metto le ceste Le ceste Messe così A caso Che non era qui Feder falling Interessante Quella lì L'ho presa No Non credo proprio Quella lì Neanche Quindi Scendi per di qua Dov'era Dov'era la cesta Ah lì L'h Ok L'apis Questo come la bevo Quella lì L'ho presa Quella L'ha Vabbè Sento dei ragni Però Provenire da qua Sempre più vicino Ah Ah Eccoli No Quelli velenosi No Non ci penso Proprio Ad andare lì Andiamo per di Qua Spero che Non mi porti Dei ragni No Non penso Forse Ho un po' Di torce Però Non le voglio Sprecare Allora Qua vedo Già una cesta Intanto Queste come Li prendo Ok Queste pure Non ci sono Molti mostri Qui Vediamo Qua cosa c'è Niente Instant Health Vabbè L'apis Ce li ho Quindi Non ha un problema Ok Qua Non c'è più niente Vediamo Per di qua Ah Questo qua Non è già aperto Ah Infinity C'è Ho sentito Dei ragni Qui c'è qualcosa Me lo sento Ok Visto che c'ho Questa Oh mio Dio No Ma quanto Via 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 Basta Dai E che cavolo Che cavolo però Ok E' bloccati Va bene In cose principali Li ho preso Alla fine Alla fine Alla fine Quella Che cassa Lì Era Solo Una Trappola E non c'era Niente C'è Niente di importante Comunque Meno male che avevo Le golden apple Se no Sarebbe finita Molto male Molto Molto Male Ok Ok siamo arrivati Qui Quindi Penso che ci manca L'ultimissima Isola Un'altra Due Adesso non mi ricordo Bene però Abbiamo finito Di Esplorare Queste due Isole Quindi per questo video Tutto E Bella